Il titanide e un dredge pongono una domanda. Cos'è l'oscurità? La risposta è di fronte a voi. Lasciate la pietà alle spalle. Luce e oscurità si erano già incontrate nel sistema di solo. Forse questa volta cambierete l'esito degli eventi. Luce e oscurità. Forse questa volta cambierete l'esitua. Un sacterà di più. Luce un sacterà di più. Un sacterà di più. Perfetto. Provellingerete le spaccato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.